Dobbiamo vincere, indubbiamente ci fanno guardare un attimo la classifica dopo una giornata, magari ci poteva stare qualche soddisfazione in più da parte di qualche risultato, però noi dobbiamo guardare in casa nostra che è sempre difficile e quindi noi dobbiamo pensare a noi e pensare che lunedì è una partita da vincere, sì, ma ne va del nostro futuro, perché credo che il nostro futuro dipende da questa partita, perché ci permette di andare a 27 punti e poi guardare un attimino, anche se abbiamo poi il sabato una partita difficile, però tutto dipende da noi e da lunedì non possiamo più sbagliare, per noi sbagliare un'altra volta significherebbe condannarci non alla recessione, però ha una situazione abbastanza drammatica, perché poi bisogna guardare in faccia la realtà, io ci credo, non dico che ci dobbiamo salvare per forza subito, però io credo che nei play-out ci possiamo arrivare, perché io credo che la Salernitana non è tanto distante, il Mantevolo stesso, il Cittadella che ieri sembrava chissà quali sfracelli potesse fare contro di noi, invece ieri ha perso 3-0 contro una grandissima squadra, forse quello che in questo momento sta mancando a questa squadra, proprio in virtù del fatto che questi ragazzi accusano a volte certe disattenzioni o certe pause che purtroppo noi Avellino non ci possiamo permettere.